Allo stand di Intel, Lenovo ha presentato il nuovo smartphone K800 basato su processore Intel Atom. Si tratta quindi di una prima apparizione per un prodotto con questo processore al suo interno. Il nuovo smartphone è basato su Android Gingerbread, quindi Android 2.3 e come si può notare l'interfaccia grafica è stata completamente ridisegnata da Lenovo. Troviamo infatti la nuova on screen e le applicazioni sono raggiungibili da un pulsante posto nella parte in alto a sinistra. Come vediamo l'interfaccia è piuttosto fluida a testimonianza del fatto che il sistema operativo di Google è stato ben ottimizzato per i nuovi processori di Intel. Questo nuovo smartphone che ha un display da 4 pollici e oltre e uno spessore non ridottissimo a causa anche della batteria di dimensioni generose che contiene arriverà sul nostro mercato all'incirca nel 2012, nei prossimi mesi dell'anno.